Intel analisi mensile maggio 2021 Buongiorno, benvenuti a tutti all'appuntamento consueto quotidiano delle 14, azionario mondiale tutti i giorni appunto alle 14, lunedì sera materie prime, venerdì sera ETF siamo in America, ieri abbiamo visto questo nuovo titolo suggerito da un iscritto Discovery Channel molto interessante e oggi siamo ad aggiornare Intel la cui analisi più recente è datata febbraio 2021 quindi è il caso di aggiornarlo tra l'altro questo video mi dà lo spunto di nuovo per farvi notare alcune dinamiche che sono stati alcuni livelli segnati in precedenza che sono stati rispettati e vi faccio vedere quanto hanno funzionato allora andiamo un attimino a strecciare, a ingrandire su quest'ultima parte del video del grafico, scusate avevamo segnato questo massimo venduto come target quindi il massimo di maggio 2020 venduto a giugno 2020 dopo praticamente la candela di febbraio di marzo ok, avevamo avuto due mesi di rialzo e poi avevamo avuto con ma appunto giugno che vende i massimi di maggio luglio vende i minimi di maggio, di giugno e il prezzo sprofonda ma guardate quindi questo avevamo un livello segnato come target e guardate al di là del fatto che dove si va a appoggiare la candela di ottobre che arriva praticamente su questa parte alta della fascia di prezzo che avevano segnato riassorbe il minimo di marzo e riparte ma guardate la candela di gennaio di quest'anno 2021 guardate al tic dove si va a fermare è un caso? secondo voi così avevamo segnato questo livello a caso guardate dove si va a fermare ritorna indietro quindi storna questa candela fino a non comprare fino ad assorbire il massimo della candela di ottobre febbraio di quest'anno è fondamentalmente una candela all'interno del range della candela di gennaio si avvicina di nuovo al massimo al target e poi abbiamo marzo che rompe apparentemente in primis il livello ma guardate dove va a chiudere sotto il massimo venduto segnato la candela di aprile quindi del mese scorso cosa va a fare? va a vendere questo massimo ma quindi diventa un nuovo livello questo di target un secondo livello ma guardate poi alla fine vende anche il minimo no non si può dire che venda al minimo però anche questa chiude poi praticamente sotto il livello di target quindi il livello di target 64 dollari tetto del mondo importantissimo per quello che riguarda Intel andiamo a target su questo livello liquidiamo parte delle posizioni ok? quindi e che cosa succede adesso? adesso la candela di maggio siamo ormai a fine mese si è praticamente spinta fino dall'altra parte del range di prezzo in cui stava operando il grafico cioè fino al massimo comprato di gennaio su dicembre 2020 andato nelle vicinanze è arrivato fino a 53 dollari è riassorbito e sta riassorbendo praticamente quasi anche il minimo del mese scorso quindi bisogna vedere se poi effettivamente questi ultimi giorni cioè questi ultimi giorni oggi e domani direi che probabilmente lunedì è già non lo so ora che è lunedì quanti ne abbiamo comunque sia se invece nei prossimi giorni il titolo continuerà a stornare ancora a stornare un po' probabilmente andrà anche a vendere il minimo di aprile creando una nuova area ok? che cosa dobbiamo fare? aspettare aspettare perché intanto siamo qui fondamentalmente sui massimi i livelli ottimali di entry rimangono 48 e meglio ancora in riassorbimento 42 sarebbe meglio che il prezzo non arrivasse sotto questa fascia di prezzo perché potrebbe dare indicazioni di un cambio di trend ma fino al livello di 48 andasse a creare uno swing su questi livelli di prezzo potrebbe essere interessante per poi vederlo assolutamente ripartire quindi aspettiamo la chiusura della candela di maggio vediamo la candela di giugno che tipo di direzione avrà e che tipo di livelli andrà a prendere molto probabilmente se il Nasdaq e il titolo in particolare andasse a stornare ancora un po' potremmo vederla tranquillamente in primis sul livello di 50 e perché no anche sul livello di 48 aspettiamola lì se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace e mi raccomando ci vediamo domani alle 14 ciao ciao